Ciao, mi chiamo Eleonora. Insieme a Alessandro, Davide e Arianna sono una volontaria del servizio civile digitale presso la città metropolitana di Cagliari. Nel tutorial di oggi parleremo insieme di come accedere al fascicolo sanitario elettronico. Apri il tuo motore di ricerca. Nella barra di ricerca scrivi «Fascicolo sanitario Sardegna». Comparirà «Fascicolo sanitario elettronico». Entra nel sito. In alto a destra premi sulla scritta «Accedi». Avrai a disposizione più sistemi di autenticazione. Speed, CIE, CNS. In questo tutorial mostreremo come accedere tramite Speed. Premi il pulsante blu «Entra con Speed». Si aprirà un menu a tendina con la lista dei prestatori di servizio Speed. Seleziona il tuo gestore di identità digitale. In questo tutorial mostreremo l'accesso con CLTID. Una volta comparsa la schermata di accesso blu, inserisci le tue credenziali, codice fiscale e password. Dopo aver inserito correttamente le credenziali, clicca su «Prosegui». Comparirà una schermata blu con la scritta «Scegli il metodo per autorizzare l'accesso». Hai tre opzioni. Ricevi una notifica sull'app MyCLTID. Usa codice OTP generato dall'app MyCLTID. Ricevi un SMS con codice OTP. Se non possiedi l'applicazione MyCLTID, puoi ricevere il codice d'accesso temporaneo tramite SMS. Ricorda che hai a disposizione solo 7 SMS gratuiti all'anno. Se hai terminato i 7 SMS, puoi scaricare gratuitamente l'applicazione MyCLTID, che consente di generare un numero infinito di codici temporanei, ovvero OTP. In questo tutorial mostreremo l'accesso tramite codice OTP. Clicca su «Usa codice OTP generato dall'app MyCLTID». Dal tuo smartphone entra sull'applicazione MyCLTID. Una volta effettuato l'accesso, ti comparirà una schermata con la dicitura «Codice OTP» e sotto un numero di 6 cifre. Questo è il tuo OTP. L'OTP ha validità di un minuto. Dal PC, inserisci lo stesso numero di 6 cifre nel campo «Codice». Premi su «Prosegui». Ti comparirà una schermata blu. Dai conferma dei tuoi dati personali premendo sul pulsante blu «Autorizza». Se accedi al fascicolo sanitario elettronico per la prima volta, dovrai attivare l'utenza inserendo i dati richiesti, quali numero di telefono e email. Premi sul tasto blu «Modifica» per riempire i campi richiesti. Una volta effettuato l'accesso al tuo fascicolo sanitario elettronico, ti comparirà una schermata di benvenuto con il tuo nome. Da qui potrai consultare i tuoi documenti sanitari, come i certificati vaccinali, le prestazioni specialistiche, le erogazioni specialistiche e i referti di laboratorio. Grazie al fascicolo sanitario elettronico, potrai anche cambiare in maniera veloce e semplice il tuo medico di base. Ti serve una mano? Il nostro sportello è aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Ci trovi in Viale Ciusa numero 21. Chiamaci al numero di telefono 070 40 92 272. Scrivici un'e-mail all'indirizzo sportellodigitale-cittametropolitana-caglieri.it oppure contattaci via WhatsApp al numero 366 343 5593. Vi aspettiamo al prossimo tutorial. Un saluto dalla Città Metropolitana.